L'impatto frontale non gli ha lasciato scampo. Pasquale Rizzuti, 79enne di Licusati, è morto probabilmente sul colpo questa mattina a causa dell'incidente stradale avvenuto sulla Cilentana nei pressi dello svincolo di Ceraso. Erano circa le 10.30 quando è accaduto lo scontro tra la Ford Fiesta guidata dalla vittima e una Opel Astra il cui conducente è un quarantenne di Ceraso rimasto ferito e dunque poi ricoverato all'ospedale di Vallo della Lucania. Le cause del sinistro sono ancora in corso di accertamento ma l'impatto è stato tale che i due veicoli si sono ridotti ad un ammasso di lamiere ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Vallo della Lucania per estrarre il corpo di Rizzuti dalla trappola in cui si era trasformata la sua auto. Ad effettuare i rilievi i carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania che dovranno ora accertare le responsabilità se c'è stata un'invasione di corsia e da parte di chi. La Cilentana è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso e recupero dei mezzi a fornire ausilio nel controllo del traffico la sottosezione locale della polizia stradale. Il sinistro è avvenuto poco prima della galleria di Ceraso in un punto in cui c'è un ristringimento di carreggiata a causa di una frana al di sopra del viadotto Nedelia. Sul cadavere di Rizzuti trasferito presso l'obitorio dell'ospedale San Luca è stato compiuto l'esame esterno dal medico legale Adamo Maiese. Si tratta dell'ennesimo incidente sulla Cilentana. Lo scorso anno a febbraio poco più in là all'altezza di Vallo della Lucania a perdere la vita su un altro viadotto fu la 43enne di Futani Angela Merola proprietaria del barrocchi di Vallo.